Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata di Pokemon Uranium Come saprete vi lascia un bel like, mi raccomando per nuovi episodi di Pokemon Uranium E oggi andremo a affrontare un po' di allenatori Allora, so che ci sono un po' di allenatori qui dentro Vorrei capire quali sono tipo i vari cosi Uh, grazie, doppio team, sei di serio? Grazie vecchietta, la... non è... wow, mi serviva proprio Più o meno, vabbè Ok, devo affrontare un paio di tipi Allora, mi siamo tipo volante contro il tipo questo qui E... va bene Vediamo un po' se riusciamo a battere in qualche maniera E sono Pokemon... Ok, sono Pokemon tipo lotta Di conseguenza con tipo volante non riuscivo a fare danno Se lo ricordo bene Ok, Luna Pop Mold, cos'è Fa Mold? Break up the mold Non so che diamini sia, però va bene, ha rotto il ghiaccio, va bene Endure Non credo di shotarlo ad mo colpo Cioè, manco per il sogno E infatti ce l'ho fatta, che fu fuori Quindi adesso ti faccio wing attack White guard, ma non ce l'ha fatto Mamma, ciao, ciao bello Ok, ci chiamo di fare xpare lui Perché mi piace un sacco come poco Voi proprio un carino, raga Ho fatto bene a fare outing E potenziarlo Infatti un po' l'ombra sta un po' neanche mentando Bashaf, ovviamente anche lui Dovrei shotarlo in qualche maniera Perché, cioè, ma gli ho fatto poi dub Non so voi, ma fa il dub Dai, sei serio? Che sfiga, raga Aia Si sbittosse un po' una merda E... ma levato un po' sinceramente Wing attack ancora Ok, dub piccolo Bashaf Ma sei morto comunque Ciao, ciao bello Ok, lui è morto Vediamo un po' Un po' di xp in più questo Si, ha voglia Un ombre livello 19 Buono Ok, ciao bello E in realtà un ombre non dovrei utilizzarlo ragazzi Quindi quasi quasi Guarda che ci penso Sti cavoli Perché devo cancellarlo Non mi piace Un po' come anche Un po' così così Ah, bravo, ma se io Ora che ci penso Ma, ma, ma Aspettiamo un secondo ragazzi Ma, facciamo così Facciamo che diamo un po' a cassoro Ma che è più interessante Anzi, facciamo a Tankoon Che così almeno lo possiamo anche Un po' livellare Give Vi diamo un attimo L'XP Share E vorrei vedere se il mio PC Che ho nella mia stanza Dopo Dopo No, faccio subito Eh, se posso tipo In qualche maniera Trasferire i Pokémon E se posso prendere quel Geridos Eh, il problema di quel Geridos ragazzi E che non sarà molto Ah, merda Lui è tipo volante Cavolo Non è stata un'ottima idea Eh, dovevo utilizzare Qualcos'altro Unica attacca Unica attacca Unica attacca Non credo Sia un grande problema Avidin Non muore, niente Mirror Shot Che non so che Di a me ne faccio Sinceramente Azzola, basta la velocità? No, la cura Sì, perfetto Meno male Almeno non Non Porca vacca Ma la so tirata però Però quando me la tiro Sei brutto Sono stupido Perché non devo di ste cose Che palle Allora E proprio che sono Un bel Tando e shock E manda a cagare a Avidin E i livelli anche Ho anche trovato un Marip Non ve l'ho detto Dopo vi faccio dare Che c'ho Tipo nella lista Dei Pokémon Ok, non muore? Sei serio? Ah, però Paralyze Dai che ti paralizzi Mirror Shot Scherzavo Ok, non mi fa nulla Perché mi fa stare tipo Volante Credo Perché se non mi ha fatto nulla Magari Credo Non lo so ragazzi Non chiedetemi ste cose Poi Poi io devo anche Cioè vado in tilt Ok, papacastolo aumentato Tankun anche Livello 18 Bravo, Tankun E Palis Chi è Palis? Ah, ok Secondo quello tipo Rosso Un'evoluzione questa Figa, mi piace Eh, quasi fuoco però Avrei potuto usare anche Tankun No, bugia qualcun altro Eh, in realtà so chi usare Mi sapete? Che non prende manco Troppo danno Ovvero Traptorce Visto comunque Devo farlo evolvere In qualche maniera E quindi fargli una mossa Di tipo terra Addio però No Ricordiamoci una cosa In teoria però È un tipo volante Quindi non lo posso utilizzare Quindi è un flame wheel Vai, c'è la Ahia La smetti Come fai a essere più veloce di me? È vero che è un uccello Però Siamo un po' esagerato Eh, no raga Forse non è un'ottima Non è stata un'ottima idea Eh, come faccio? L'ombra prenderà un botto di danni Ok, Tarlar So che a te Devo curare i miei Pokémon È un bel problema Edizione stupidi Pokémon Ancora Temblast La vuoi smettere? Uh, Tarlar Zè il 29 Grande, Tarlar Eh, non è che subito I Pokémon 2x3 Ulisse Eh, non nemmeno nella bag Utilizziamo Dual Chop Va, c'ho voglia Bam Ok, quanto stai? Ok, Dual Chop È troppo fio C'è criticalità Sempre il primo colpo Quasi È una buona mossa Ok, morto Perfetto Abbiamo quindi Propoca solo aumentato Raptor c'è aumentato Terlar E tutti insomma Amentrata anche Anche vai Ok, andiamo a vedere quindi ragazzi Se abbiamo ancora Oh, Tankoon si evolve Guarda che figo È tipo Mike Tiena Più o meno l'idea Al fine Tipo anche Gli attributi sono gli stessi Quindi È giusto Eccolo qua Ta 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 Tankoon si è Ha fatto la sua Piccola In particolare Evoluzione E che ti sto dicendo Andiamo un attimo qua Vediamo se Il mio PC Posso prendere i Pokémon Oh No Item storage Non ho hai No Cavolo Che sfiga Ragazzi Allora Torniamo solamente Torniamo poi a fare i danni Visto che non posso fare nient'altro Comunque Eccoci di nuovo qua Dove affrontare questa seconda porta Non è tanto grande Quindi in realtà Non è che ci sia troppo i Pokémon E Senti Che vuoi questo È un uomo di montagna In effetti Forse non è un'ottima idea Utilizzare Un Pokémon tipo uccello Poi uccello Sa un po' brutta Come cosa Un Pokémon di questo tipo E anche perché Non credo di fargli troppo Dario Un Pokémon forse Li fa un po' di danno Ma non troppo Efficace normale Però Ok Meno male che se Ho aumentato Ho sventato che cosa Attacco Adere Cioè Ho riuscito Con il prossimo colpo Quindi un problema E Sì ok Sono anche rispondendo Sul telefono Perché io sono Doppio task Ragazzi Double task Dai will Quale è Ah Azzio no Questo non funzionerà mai Ne è che Infatti non funziona Cavola E mi fa anche parecchio male No Metal Club Meno male Ok Pensavo una mossa Di tipo Te Questo è Che cosa orrenda Ho appena visto Metal Club Aia Male 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 Ok Mani dude Dieci Oh Nove Da tanto non vediamo un nove Vediamo sempre sette Sei otto Mai un nove Cavolo Wow Shottati Ciao bello Ciao bello incontrarti Perfetto Terlord Uh Vai Ok Darwin No Stasso lo teniamo Questa La 26 Sono anche abbastanza alti Proverete Anche se sono abbastanza alti Riusciamo a shottare senza problemi Però gli altri no invece Ed è un problema Perché Quale era proprio un pezzo di merda Quella palestra Quella palestra Non me la aspettavo proprio Come palestra Subito da affrontare E quindi È tutto un problema Comunque Shottato anche lui Perfetto Certo bello Ok Preso un sacco di punti E ci siamo Ok 1.3 Buono Questa non so se Tipo Farà qualcosa Non credo sia Una cosa Uh Quick claw Oddio Quick claw Non mi ricordo che faceva Aspettate un secondo Vediamo un po' Quick claw E I sharp claw That better More fast Oh Figo Possiamo tipo attaccare per primi Sempre con questa cosa Molto molto buona Vediamo un attimo Quindi se anche questa Vuole affrontarci Infatti Ci vuole affrontare Che pokemon C'hai Dai Per favore I pokemon Più decenti Dai Slash Jedi Arbok Arbok Ci sono anche pokemon Di prima generazione In serio Ah sì Infatti non abbiamo ancora visto Con prima generazione Ok Wing attack In realtà non farà troppo male Wing attack Però Basta ragazzi Ok 25 crunch Non è Non è Crunch però più forte di bite O che ci penso Mi farà il culo Sì non lo shotterò mai Nella vita Cavolo Tutto stupido Ci muoio anche Mi spiace Eshoo Andiamo con No Andiamo con Con raptor Cioè raga E stando veneno Che cavolo Buttiamoci E facciamo Il poveretto Sto raptor Da un botto Che vuole diventare La sua evoluzione E poi diventare Mega evoluto Perché no Buttiamoci Poi non ho ancora visto Mega evoluzioni Quindi Sarà bello Se il video Poi come si fa Mega evoluzione Perché Io non l'ho mai fatto Mega evoluzione In nessuna parte Ragazzi Quindi Torfuran Ah ok Ho capito chi è Diamine Che Cristo è Ne abbassa l'attacco Vero Eh merda Non mi piace Come cosa Facciamo 10 9 Oh Forse No Non credo di Washedalo Perché Mi è bastato Quindi non avrò Abbastanza roba Uh Ce ne vorranno 3 Ce ne vorranno Body slam Questo mi fa un male tremendo Eh vado Quasi 20 Mi ha levato Barn Ok Uh che bello Guarda come piglia danni Perfetto Andiamo ancora a magnitude 9 8 Non ho shotto ovviamente Di nuovo Insisto perché È impossibile Adesso stare così Però con No con barn Non ce la faccio nemmeno Body slam ancora Pezzo di merda E qua Andiamo subito con Un ember Lo sciuttiamo Non serve fare un altro Corso Ok Morto Dammi un botto di livelli 420 Buono mi piace Trashcure è al 20 Va bene Oh l'ho scelto subito Ci hai risolto due pokemon Fa un po' schifo sinceramente signorina Comunque andiamo a curarci di nuovo E poi continuiamo con la cosa di sotto Che abbiamo Ecco le stanze sotto In realtà dobbiamo tipo salire credo Ok Quindi ci sono tante stanze Ah no Già mi è andato il capitano Ci sento qualcosa qua Non so che cosa sia Ehi salve Hello there Ciao piccolo natore Sono il capitano di questa nave Wow davvero Tipo a Mal di mare E Non siamo nemmeno nell'oceano Va bene Cosa fare Cosa fare Ho sentito Break up Non so cosa sia ragazzi Vuoi farmi un favore Certo Dimmi pure Che devo fare Esattamente Ok Non ho niente per te Scrum Pezzo di merda Ah tipo mal di schiena ragazzi Credo sia mal di schiena Davvero Seriamente non vuole darmi niente Lo farò un'altra volta Perché non so sicuro Se ragazzi Mi da qualcosa Quindi non so Proviamo tre volte in genere Il numero preciso Per fare cose Ok Se no merda Se ragazzi Capitano di merda Ok abbiamo portato tutti Quindi adesso dobbiamo uscire Mi sto dicendo questo Usciamo ragazzi Non possiamo uscire Ah wow Che bel bug questo Non posso fare niente Regà Ah sei serio Dove dire Dove devo andare Allora Ok C'è qualcosa Che non va Ragazzi Che cosa devo fare Esattamente Non è che devo ancora Ah forse devo parlare Con lui Devo parlare Forse Può essere Ciao bello Ma non sono spaventato Non ho detto Non sono mai spaventato E Va bene Sì Tu fate un ranger Aiuterà tutti Non è vero Vogliamo combattere Combattiamo ragazzi Combattiamo con lui Siamo Ok Eccoci qua Tio Perché noi Capito Non so Poi potrebbe morire Entrami i nostri padri Però Combattiamo Perché tanto Che si va Ecco Spero che non la faccio Da capo La mossa di prima Ragazzi Con la merda Un'attacca Se non uso Più che attacchi Li faccio il tuo Anche sono sempre più veloci Di lui Però Non vorrei Eh Mirror shot Il merda Quanto ti odio Questa mossa Un'attacca ancora Vai Troppo bello Dovrei 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 sciottare Dovrei sciottarlo Perfetto Ciao Ok Aumentato No Non ancora Seablu Seablu Dobbiamo switchare Se Mi serve Eh no Bugia Bugia Teniamo questo Perché Non so Voglio arrivare Altra cosa Andiamo con gattacca Dai C'è tanto Gattacca Che brutta L'omachetta È proprio brutta Rain dance Oh Che bello Potrei utilizzare qui Tuono Senza problema Funziona comunque Ok Bubble beam Aia Sì Cioè guardate Raga Ma ho levato Più di 50 Con bubble beam Ma siamo seri Siamo credo che non va Sto pokemon Cioè È proprio un pancato A merda Vabbè Comunque Andiamo con dual chop Bam Leva lì Un botto Leva lì Ok Fali ti critica lì Per favore Lo sciottiamo Ok grande Perfetto Non hai critica lì Però non l'ho fatta comunque 434 Anche transcur E Che Cristo è Chop Non hai tipo Volletto Sei bugato Ragazzi Non riesco a fare le mosse Ok A me non è volante Dai Buono Questo Ok Credo si sia Blocca Non lo so È ogni tanto ragazzi C'è un bug Che tipo Non fa attaccare L'avversario Quello Quello è una buona cosa Per noi Perché Allora potremo utilizzare Qualsissimo Come vogliamo Noi Pre-exp Sinceramente Non è importante Transcur Ok Lunapoop Lunapoop Eh Merda Ma è morto E che Cristo Devo buttare Andiamo così Ok Sì sì Moldbrick Non ci interessa Senti 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 Tu sei anche roccia Se non ricordo male Quindi mani tu Dovevi farti male Credo No Non è roccia Scherzavo ragazzi Ok Si è sbuggato Buon rush Aia Oh Però non puoi Fa ste cose Che palle L'odio L'odio Che provo in questo momento Quando ci sono queste mosse Che hittano per 5 volte Ma sei serio 5 hit Madonna L'odio Dual chop Va Falli il culo Spero che fai un critico Bello assestato Bravo Così ti voglio Così ti voglio Terlard Li deve morire tutto Li deve morire Ok Ora abbiamo Quindi Transcur Per fatto è morto E Metalix Ovviamente Per Metalix Ragazzi Andremo con Raptor Ok Mi sembra giusto In realtà Ora che ci penso Potremmo prendere i danni No Già non prendiamo danni Scherzavo Ho detto così Ok Ah l'ho fatto C'è l'evoluzione Che pezzo di merda Che sei Io non ce l'ho L'evoluzione Ragio lì Ok Muori Pezzo di merda Tu c'è l'evoluzione Io non ho Come ti rendi Come ti Cioè ti rendi conto C'è che sei Sei una merda Ok Level 26 Buono Raptor Livelli Ancora Yeah ragazzi Ce l'abbiamo fatto Anche lui Perfetto Eh Io solo ho pensato Che Io penso che papà Sia in pericolo E non ha nemmeno vinto La battaglia Anche se ho provato A fare del mio meglio Sono un po' una merda Lasciarmi da solo Ok Ha problemi ragazzi Sto tipo Seriamente Tanti problemi Ok ci hanno anche avvisato Che in realtà Sono arrivati anche a casa Quindi adesso possiamo uscire Quando vogliamo E sinceramente Io vorrei capire Se il capitano Con quel pezzo di merda Ci può dare qualcosa Posso sempre dormire Senza problemi Perché tanto Ehi raga Letto mio Dormo io E vediamo un attimo Sono curioso Nel fatto di capire Se posso o no Avere qualcosa dal capitano Proviamoci l'ultima volta Se non va ragazzi Sti cavoli Ok E va bene Sì 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 Cosa vuoi fare Posso aiutarti Sì Andiamo un po' Ok E niente Non mi vuole dare niente È un pezzo di merda Proprio ragazzi Ma queste cose Mi dice qualcosa Quindi inshallah Andiamo giù Tranquillamente Anzi no Direi che potremmo Comprerci anche qui Per ora La cosa potrebbe essere Anche tutto Ci vediamo presto Un nuovissimo video La prossima puntata Prendiamo Genidos shiny Che in realtà Non è shiny E uranium Cioè Quindi tanta roba In ogni caso Ci vediamo presto Un nuovissimo video Ciao ragazzi